allora andiamo a mettere giù un po di roba scatole sta roba qua ma dai dove sto andando ma io cambio anche il mio meno ferito povero allora mettiamo via queste questa roba qua borsa di gelatine è interessante le gelatine palla da trincea arma da mischia ok quindi mettiamo giù questo zaino zaino messo dove il signor logan signor logan venghi qui allora inventario dove l'inventario di long anche ci avevo la chat davanti ok a questo punto mettiamo via lo zaino questa micro gestione non potrebbero mettere giù loro le cose premi U ma che è giorno adesso è giorno costruzione armi autonomia migliora usando armi da mischia non male bene ma come faccio mi ha detto puoi fare puoi fare non posso fare niente lezioni di scherziamento devo vedere una cosa qu radio consiglio medico chiedi aiuto no bloccato a radio ok abilità ok inventario esco va vabbè allora le cure allora costruiamo cura la piaga l'infezione allora che questo quincy no 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 fabbrica oggetti questo allora uno due tre quadro allora curiamoci noi ci siamo qua noi fusa credo proprio che prendo starla qua ecco guarito poi tu logan come stai combatte l'infezione dai cura superstite e arrivo in piaga no no io ho già fatto mai ok quindi siamo solo noi che eravamo siamo malati siamo già curati ok sì bene allora quincy c'è un qualcosa che lo disturba quincy aspetta un attimo aspetta un attimo no no sono io quincy produci risorse aumenta la nostra scorta poi mod nostra mod a posto questo lo sta facendo medicina di emergenza fatto a posto quincy è come nuovo come un uovo e tu logan vediamo allora era c no cosa dico b no n i o non mi ricordo più comunità allora logan si non sta bene signor logan la ricovero eh ti ricovero così ti curi dov'è logan no questo è cura la piaga nessun trattamento usa la tenda medica e ma l'ora primo 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 non la producimi di finali vabbè accedere congeda si va di a curare buon uomo allora prendiamo chi che sono sannoia vic 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 20 malic malic vieni con noi ok allora scorte ok poi un'arma interessante vediamo se faccio questa cosa allora un'arma migliore questa no questo 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 fucile d'assalto silenzio sì 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 lascia stare il dinosauro progettata per sussurrare se ho chiesto di tenere dal buco dell'orecchio del bersaglio non è distanza tomo poi abbiamo detto è questo sì questo qua fa così 45 da 5 a 56 oh no 22 sono questi signor va bene allora questo lo equipaggiamo perfetto questo lo depositiamo poi i proiettili dove sono da 9 ma no ma non ce li ho allora questi qua da 5 a 56 abbiamo presi 46 va bene va bene va bene va bene va bene vediamo sì sì silenziatore non so se c'è ma questo sussurra e sussurra i cavalli sai Harry sì allora controllo se il mio fa un bordello da matti quando spara però va bene per uccidere il colosso se uno vuole perché è potente sì apri il cancello che andiamo ascolta prendiamo un qualcosa che trasporti un qualcosa che sia robusto magari quello con la benna davanti allora aspetta che prendiamo la benza questo poi mettiamo dentro la benza e la cassetta degli altri c'ha la benna quello lì no quello con la benna fa fumo ma questo è più potente ma resiste quando uccidiamo gli zombie quello con la benna capito anche lui questo è cazzuto ma se vuoi quello con la benna prendi quello con la benna ma sta facendo fumo quello con la benna no non lo so aggiustalo è meglio quello con la benna perché possiamo uccidere tutti allora vediamo quello con la benna vediamo ora quello con la benna adesso gli saccio il cambio delle cassette dai finché giorno sennò diventiamo vecchi ah beh o che devo fare io cambia idea sempre te ma no ti chiedo qui i capi quelli fai qui e fa là ma no ti chiedo ti chiedo ti chiedo ho preso quello con la benna vengo io in retro? non lo so ma tu dove sei adesso? sono qua ah si sei là guarda quello là che brutto è piano che se no si inchioda non conosco quella persona qua quello di dare tu? ah si se no si inchioda dai dov'è che dobbiamo andare? dov'era prima? si ci ho messo un segnalino giallo lasciare della pulizia? pulizia si vuoi la piaga? anche no siamo pieni dai parti ma serve la piaga adesso mi tira giù guarda eh prendi la piaga intanto eh beh per forza dov'è? vedi davanti al pulmin al pulmin ah al pulmin dai vieni salto salto su salto su questo fa un baito davanti però cosa fa? visto qua ma no si va bene se ti interessa allora ops piano qui che eh madò ho preso proprio con la benna il pizzo della benna c'è Dovemmo andare giù di lì? Andiamo alla prima a sinistra Questa? Sì Questa era quella da uccidere prima Ti hai detto no non ci andiamo perché tanto sono usciti tutti Va bene va bene Possiamo anche andarci c'è anche un cane Ma sì aspetta Adesso questo qua li chiama tutti ci divertiamo a un mucchio Intanto abbiamo una cassetta degli attrezzi Sì sì infatti Dai schiacciali Prendiamo dentro e schiacciali Aspetta che questo qua mi ha sorpreso Non pusso non pusso non pusso Mannaggia il pusso Dove vai? Vado giù nel fosso Sono morto io Ma dai Ma io sono morto Ma dai No per un pelo Infatti dovevo venire giù Meno male che sono sceso Come mai? Ero lì su Vedi che dovevo scendere io dal pusso Ma a momenti muoio Nel senso ho preso un secondo prima la medicina Sennò ero ciao Ma pensa C'è ancora l'urlone Adesso vengo a darvi una mano Ho trovato un po' di proiettili Ma è il pusatore I should reload Non c'è ancorazza Mi hanno messo un po' di proiettili Ero l'urlone Non credo nemmeno. Ah, questa è la mia ultima. FIERE IN THE HOLE! Gli hai uccisi? Boh, cosa ho buttato? Una bomba puzza! Ah, quella è la! Ma dove? Perché ho sciupato questa bomba puzza? Ma dai, in bambizio! Eccomi! Eh, sono andato a beccare quel coso lì! Che non volevo! Il puzzone! Allora, questo zaino... Adesso raccogliamo due o tre cose e poi torniamo! Sì! Buona cosa che non ho avuto le mie aspetti! Ok, qua su l'avevo già visto! Ah, una bottiglia di vino! Ma buono! Deve la metto però! Devo mettere dentro la macchina adesso le cose! Allora, io ti seguo piano e prendo il taxi così prendiamo più roba perché sennò non le svuotiamo mica mai queste cose qui eh! Il taxi è qui! C'è anche una cassetta degli attresti dentro per me era già nostro! Sì sì, è probabile qua ci siamo stati tutto il tempo! Così ho due slot liberi vediamo intanto nel taxi! C'è arrivato qualcuno? C'è un'orda in giro! Vieni! Eh! Ma qui è pieno di roba da prendere però eh! Davvero? Ah già! Appena detto un armadietto era vuoto! Un armadietto era vuoto! Oh babà! Dov'è sto taxi? Sì! Arrivo! Dio ma ho anche l'infezione! Si! Mamma mia! Allora devo tornare indietro e poi andare a destra! Arrivo! oh dai dio ma aiutami un po aspetta che arrivo aspettami perché se esco troppo mamma mia non ti dico cosa c'è cosa c'è dai siamo riusciti a prendere tutto c'è un'orda che non ho parole è galattica arrivo ecco abbiamo preso tutto bene l'ho disordata stai schiacciati tutti? quasi tutti perché aveva la luce accesa il mio vino che non l'ho scelto io a te questa luce hai sempre dei problemi? ti dà proprio fastidio la luce l'avevi messo la tua macchina così la metto ah è lì bravo vuoi andare adesso? a casa? ah ok ok Per la piaga C'è uno screamer Un urlatore Ma dai ma guardate A fare il pelo ai muretti di Monaco Era là in mezzo alla piana Ah l'ho visto Ok Dai Malik Cos'è? Stai dando portellate Mi sto esercitando Mi sto esercitando Adesso parcheggio quel taxi lì Poi quando vuoi fare una missione da due Abbiamo anche una macchina figa Ah ok Chi hai ucciso? Io nessuno Ok Vado a fare un po' di piaga Va là perché qua Se no Allora Una Due Tre Quattro Cinque Sei Costo due Poi Dov'è? Tomalik Se sei a Malatik Tieni Curati Henry Come stai con la piaga Vuoi cura? Ah mi piacerebbe sì Ce l'ho Venimi vicino Arrivo Eccomi Non so dove Ok Allora Così non riesco a dartela Devo mettere per terra Allora Ah non mi puoi curare? No Ah sì No no Non mi da Non mi da Allora Forse l'ho sbagliato Non ho butato La piaga sì Quante sono? Due? Sì Vero? Sì Te ne do una No 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 Ce ne ho tre Ce ne ho tre Ne ho fate tante apposta Perché così Allora Aspetta che metto giù Uno zainone Zaini Oh grazie Perché l'ho proprio messo Alla cacchia Poi L'ho proprio messo Di cacchia Qua dietro Io ho messo Delle viti E bulloni Qualche cagnolino Ha fatto una Scorreggina Vero male? La puzzetta Si chiama Senti anche Senti anche te Delle puste Mannaggia Che qui c'è Che sono tutti Dei pettomani qua Qui abbiamo I cani pettomani Sa cosa gli dai Di buono da mangiare Ah tutta la ciccia Di polo Del macellaio Ma la seconda Armazia Io me la potrei Prendere Però vediamo Seconda arma Precisione Uh silenzio Silenzio Una pistola Leggera Polimerico Bene Una moderna pistola Europea Affidabile E abbastanza Precisa Potenza Potenza Tutto uguale Cosa c'è Questa Che non va Cioè perché Mi fa Questo scambio Solidità Questa è Molto solida Ma prendo Questa Io Poi Cosa Consuma Questa 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 Ah Mossorbo Sai che La macchinina Azzurra Tiene La macchinina Quella verde Quella sportiva Tiene anche lei Un baule Da 8 Oggetti Calibro 22 Non è mica Una cassata Ma perché Non ho Ah ecco Che c'è 22 Ok 22 Esagerato Questa borsa Di gelatine Da dare A qualcuno Alto valore Di scambio Dov'è Uno scambista Qua Ah Devi guardare Nella radio E richiamare Lo so Lo lascio là Dai L'ho messa Qua dentro Quando ci verrà In mente Lo faremo Allora Devo mandare Malik A congedarsi E prendo Isby Vieni con noi Isby 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 Woodbeez Ascolta Eh Eh Dov'è